Benvenuti cari telespettatori e cari telespettatrici di Rossini TV per questa ultima edizione delle Vallefoglia e Pian del Bruscolo Magazine. Prima di incominciare però vi ricordo di inviarci le vostre segnalazioni al numero che vedete in sovraimpressione, alla email vallefoglia-rossinitv.it oppure alle pagine social di Rossini TV presenti su Instagram e su Facebook. Vallefoglia e Pian del Bruscolo Magazine che apriamo con la risposta del comune di Vallefoglia in merito alle problematiche segnalate da alcuni residenti della zona vicino al parco Nildejotti di Montecchio. Sentiamo la risposta del sindaco. È stata più una richiesta d'aiuto che una protesta nei confronti di chi amministra il territorio. Le diverse problematiche di origine sociale che una settimana fa hanno segnalato i residenti della zona attorno al parco Nildejotti di Montecchio le abbiamo riportate al sindaco di Vallefoglia, Palmiero Ucchielli, al quale abbiamo chiesto come il comune può intervenire. La sicurezza e l'ordine pubblico è un compito del ministro degli interni, non è che il sindaco e lo sceriffo. La polizia dello Stato, come si vede, quando ci sono disordini interviene ed è la polizia dello Stato, interviene la Guardia di Finanza, intervengono i carabinieri. La polizia locale è un supporto. È chiaro che molto conta l'educazione. L'educazione nelle scuole, l'educazione nelle famiglie, l'educazione nelle parrocchie, l'educazione... Quando tutto questo non c'è più, diventa difficile. Se non c'è una educazione civica, noi consegneremo i prossimi giorni delle copie della Costituzione ai ragazzi delle Quinte, della città di Vallefoglia. Io ho tenuto 3-4 incontri con i ragazzi per spiegare come si sta nel mondo. È chiaro che se noi mettiamo i giochi nel Monte di Montetio, nei parchi, facciamo tutto nuovo. Io incontro il prefetto, il questore, il comandante di Carabinieri, il guardia di finanza, la polizia dello Stato. Poi ci sono dei ragazzi un po' più vivaci e che sono figli di quelli che brontolano, che fanno bene a brontolare. Però se invece di brontolare basta, educassero un po' di più, forse sarebbe più facile anche il compito del sindaco, delle forze di polizia, dei vigili. L'amalgama di una città che è fatta di gran parte di persone del sud Italia, di persone che vengono dal Marocco, dall'Albania, dagli altri paesi, d'Europa e del mondo. Quindi farne una comunità, farne una famiglia ben educata, che rispetta le regole, ce ne passa. Quindi i cittadini fanno bene a segnalare tutte le questioni. A me non sfugge nulla, perché io sto 15 ore al giorno qua in H24. Non è che io faccio i miracoli, io cerco di farli tutti di più. Ma voglio dire, i compiti della sicurezza dell'ordine pubblico sono compiti dello Stato. Le regole ci sono, vanno rispettate, vanno fatte rispettare, ma quello è un compito di tutti i cittadini, perché il sindaco, bravo che sia, da solo, ma da nessuna parte. Se tutti i cittadini danno una mano, se c'è un ragazzo che non si comporta bene, lo chiamano, parlano con i genitori, piuttosto che farle sceneggiate, che vanno bene anche le sceneggiate, perché delle volte uno si viene sensibilizzato un po' meglio, io li ringrazio. Infatti tutti quelli che sollevano un problema io li ringrazio, perché comunque ci aiutano a dare una risposta ai problemi di una comunità. Tra le proposte fatte dai cittadini al sindaco, c'era quella dell'installazione di un sistema di sorveglianza o un controllo maggiore della zona da parte delle forze dell'ordine. Non possiamo mettere una telecamera in garabiniera per ogni effesso. Noi stiamo rifacendo, rivisitando tutte le telecamere, di 140 telecamere in tutto il compressorio pesadito. Stiamo facendo l'appalto. Però le telecamere, i briganti, cosa fanno? Sono andate a rubare nelle sedi municipali, le hanno coperte, le hanno girate. Non è che tu metti una telecamera per ognuno che invece di buttare l'immondizia dentro il bidone la butta fuori. No, è un problema di educazione, è un problema di civiltà, è un problema culturale, è un problema che le famiglie bisogna che governino la propria famiglia. Se uno non governa il condominio, la famiglia, immagina quanto è facile governare in comune. Come diceva una volta, bastava che il nonno o lo zio ti guardava, adesso il nonno o lo zio se li guarda un po' malamente può darsi che li aggrediscono anche. Quindi siamo in un altro pianeta purtroppo, ahimè. E giovedì 26 maggio è stata una data importante per la giunta Ucchielli che festeggia otto anni dal suo approdo a Palazzo Mamiani a Sant'Angelo in Lizzola. Otto anni intensi che hanno segnato la nascita del nuovo comune di Vallefoglia, istituito il primo gennaio 2014 dalla fusione dei due ex comuni di Colbordolo e di Sant'Angelo in Lizzola. Tra le opere realizzate in questo periodo, che il comune ricorda con piacere sulla sua pagina Facebook, vi è la costruzione in soli 72 giorni del nuovo plesso scolastico Federico da Montefeltro, a seguito della frana che ha interessato la scuola di Via Leonardo da Vinci a Montecchio. Altri investimenti hanno interessato lo sport, la cultura e il tempo libero, come la costruzione del nuovo campo di calcio in sintetico a Morciola o il Teatro Branca di Sant'Angelo in Lizzola. Anche altre opere significative hanno interessato il campo sanitario, come l'apertura della nuova Casa della Salute a Montecchio. Il servizio di guardia medica non sarà attivo nemmeno per il mese di giugno nella Casa della Salute di Montecchio. Resteranno infatti chiusi i presidi di Vallefoglia e di Gabice Mare, mentre quello di Pesaro sarà attivo solo il weekend, continuando ad appesantire il carico sul pronto soccorso. Vediamo il servizio. Le postazioni di guardia medica di Montecchio e Gabice Mare resteranno chiuse anche per il mese di giugno. È arrivata la conferma infatti da parte della Regione Marche, la quale però garantisce l'apertura del presidio di Pesaro, ma solamente nel weekend. Una situazione complicata che prosegue ormai da tempo e in questi mesi non sono arrivate soluzioni o cambi di rotta, per quella che è a tutti gli effetti un servizio essenziale per il territorio. L'unica guardia medica disponibile sarà dunque quella del capoluogo della provincia, che sarà aperta solamente il venerdì dalle 20 alle 8, nei giorni prefestivi dalle 10 alle 8 e in quelli festivi dalle 8 alle 8. Una confusione causata dalla solita lacuna. La mancanza di medici non garantisce una copertura del personale per tutti i giorni settimanali, rischiando di conseguenza un sovraffollamento dei pronti soccorsi. Un'emergenza che rischia di peggiorare ulteriormente quando nel periodo estivo, con l'arrivo di turisti, un banale problema potrebbe comportare scomodità e tempi di attese interminabili. Per tutti i cittadini resta comunque attivo il centralino dell'ospedale di Urbino, che da aprile indirizza le telefonate tra le varie guardie mediche aperte del territorio. Se a Pesaro il presidio sarà chiuso, la chiamata verrà smistata ai presidi dell'entroterra, dove il medico di continuità assistenziale valuterà se effettuare una consultazione telefonica o invitare il paziente a raggiungere la guardia medica aperta più vicina. Una garanzia che non soddisfa i consiglieri Biancani e Vitri, che da mesi lamentano questa situazione considerandola inaccettabile. Sono oltre sei mesi che una città come Pesaro, che è la seconda città delle Marche, ma anche il comune di Vallefoglia, anche il comune di Gabicis, quindi tutto il territorio del pesarese, ma non solo, perché lo stesso problema ce l'hanno fanno, ce l'hanno anche in altri comuni del nostro entroterra, non si trovano le guardie mediche. Questa giunta regionale si è rappresentata dicendo che avrebbe non solo mantenuto i servizi esistenti, ma che avrebbe aumentato i servizi ai cittadini. Sono quasi oltre un anno e mezzo che sono arrivati, i servizi stanno continuando a diminuire, il servizio di guardia medica quando ce l'avamo noi era comunque garantito, e sei mesi in territorio senza guardia medica ritengo che sia veramente molto grave. A marzo era stato sottoscritto l'accordo tra la regione Marche e i sindacati per trovare un accordo che prevedeva un aumento delle tariffe orarie che potevano essere date ai medici che appunto decidevano di fare la guardia medica. Inizialmente il motivo per cui erano state chiuse era perché i medici preferivano fare o i vaccini o andare a fare i servizi domiciliari attraverso le USCA. Oggi questi servizi praticamente sono stati completamente ridotti e quindi non riusciamo veramente a capire il motivo per cui si continuano a dare questo servizio ai cittadini. E in occasione del trentesimo anniversario dalla strage di Capaci dove persero la vita il giudice Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e gli uomini della scorta, alle 17.57 di lunedì 23 di maggio, su indicazione del Lanci, i sindaci della provincia di Pesero Urbino si sono ritrovati in Piazza del Popolo a Pesero. A questa commemorazione rappresenta anche il sindaco di Vallefoglia, Palmirucchielli, che insieme agli altri sindaci della provincia ha osservato un minuto di raccoglimento per ricordare quella che ormai è diventata una data simbolo nella lotta contro tutte le mafie. E a breve partirà il corso di formazione professionale per operatore macchine utensili. Dal 13 giugno 2022 presso il punto informativo lavoro di Morciola si terrà un corso gratuito rivolto alla formazione di figure professionali per condurre macchine tradizionali semi-automatiche a controllo numerico e di ultima generazione. Il corso, finanziato dalla Regione Marche, ha una durata di 600 ore, di cui 240 in stage. Le lezioni si svolgeranno presso i laboratori del centro commerciale Le Cento Vetrine di Morciola dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 19.30. Questo progetto è volto alla formazione di operatori di macchine utensili data la sempre più richiesta delle aziende che operano nel settore meccanico, del legno e dell'arredo. E passiamo ora alla cronaca con la notizia della tragedia avvenuta a martedì scorso sul monte San Bartolo dove un uomo di 61 anni di Valle Foglia è morto cadendo da un dirupo. Vediamo. Il parco San Bartolo si è trasformato in pochi istanti da bellezza naturalistica al luogo della tragedia. Non c'è stata nessuna speranza da parte dei soccorsi di poter recuperare vivo Gugliel Morici, pensionato di 61 anni e residente a Montecchio, che ieri mattina scivolando da un dirupo sul monte di Pesaro è precipitato nel vuoto per circa 100 metri. Amante della bicicletta e dei percorsi immersi nel verde, anche ieri verso le 9.30 del mattino stava pedalando in sella la sua mountain bike nei sentieri del parco San Bartolo quando ad un certo punto si è dovuto fermare per un imprevisto. Il buco ad una ruota l'ha costretto a scendere dalla bici per cercare di ripararla, ma da lì a breve si sarebbe consumato il misfatto. I familiari non vedendolo rincasare per l'ora di pranzo e non essendo stati contattati dall'uomo per un possibile ritardo, hanno dato l'allarme ai carabinieri che di conseguenza hanno avvisato i vigili del fuoco. Arrivati sul posto sono partite le ricerche del 61enne, cercando il punto esatto attraverso delle indagini. Ed è proprio a seguito di alcune indagini che i vigili del fuoco si sono ritrovati nella zona vicino al camping Paradiso, dove due curve prima l'uomo aveva bucato la gomma. Un luogo affascinante del parco, ma allo stesso tempo pericoloso, fatto di curve e sentieri inclinati e dissestati, l'ideale per gli appassionati di mountain bike. Ed è proprio in quel punto che verso le 17 è stato rinvenuto il corpo dell'uomo ad una profondità di circa 100 metri, quasi in fondo al dirupo. Una pendenza troppo elevata per i vigili del fuoco che hanno necessitato dell'aiuto di un elicottero proveniente da Bologna per poter recuperare, poco prima di cena, il corpo ormai senza vita di Guglielmo. Il sindaco Ucchielli ha comunicato sulla sua pagina Facebook che sono terminati i lavori di asfaltatura delle strade comunali. Il progetto di rifacimento del manto stradale, che era stato approvato nel 2021, ha comportato una spesa di 610 mila euro. Una somma che è stata interamente finanziata dall'applicazione dell'avanzo di bilancio. Nei prossimi mesi però il Comune di Vallefoglia ha intenzione di approvare un altro progetto dal costo di 600 mila euro, sempre rivolto alla manutenzione stradale. Un intervento, anche questo interamente finanziato dall'avanzo di bilancio, volto a garantire sempre più sicurezza a chi si trova a transitare nelle strade comunali. E ricordiamo a tutti voi cittadini che nella giornata di sabato 28 di maggio il Comune di Tavuglia sarà interessato dal passaggio di una gara ciclistica nei corridoi di diverse strade. Dalle 14.30 alle 17.30 sarà chiusa al transito la strada San Giovanni in Marignano, strada del Piano e strada dei Mandorli. Dalle 16.30 alle 18 sarà chiusa invece la strada Marrone, strada per Montecchio, strada per Pozzo, via Borgo San Michele, via Roma e strada San Giovanni in Marignano. Queste strade saranno chiuse sia al traffico veicolare che pedonale. E sempre a Tavuglia è andato in scena il 26 di maggio il primo appuntamento in programma dedicato a chi vuole iniziare a conoscere il Nordic Walking, conosciuta anche come camminata con bastoni per capire l'importanza dell'applicazione della corretta tecnica. La prossima data in calendario è fissata giovedì 9 di giugno con la lezione che inizierà alle 18.30 dallo Yellow Park di Tavuglia. Il corso è gratuito e sarà tenuto da istruttori e maestri della scuola italiana Nordic Walking i quali forniranno gli appositi bastoncini per la durata della lezione. E come di consueto concludiamo il nostro TG parlando di sport e in particolar modo di calcio. Partiamo dal campionato di promozione dalle Cappasport Montecchio che contro la fermignanese non è riuscito a strappare i tre punti pareggiando per 2 a 2. A tre giornate dalla fine sono tre i punti che li separano dai play-off. Salda al quarto posto c'è invece il Balfoglia che nonostante il pareggio casalingo ottenuto per 1 a 1 contro il Sassoferrato Ginga resta incollato al sogno play-off. In prima categoria è invece arrivata la prima sconfitta nel 2022 per l'Osteria Nuova arresasi per 3 a 1 sul campo del Santa Veneranda. Questo risultato non cancella quello che di buono è stato fatto in questi mesi tant'è che sono ancora in zona play-off a 48 punti ad una giornata dalla fine. Play-off che ora sono diventati matematicamente irraggiungibili per l'Atletico Tavuglia incappato nella seconda sconfitta consecutiva questa volta contro la Mercatellese. 0-2 il punteggio finale con il Tavuglia che rimane dunque fermo a 44 punti. E con le notizie di sport si conclude qui questa edizione delle Vallefoglia ai Pian del Bruscolo Magazine che dunque conclude questa sua terza stagione. Per rimanere aggiornati comunque sulle notizie di Vallefoglia e dei comuni limitrofi vi ricordo di seguire il notiziario di Rossini TV il Rossini News da lunedì al venerdì tutti i giorni alle 19.40. E con questo è tutto vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata. Grazie a tutti.